Macchinine colorate presentano Sono sette macchinine di tutti i colori dell'arcobaleno Sette i colori delle macchinine, è facile impararli insieme C'è un grande camion rosso, ma che rumore fa? La macchina arancione chissà dove va La macchinina gialla le ruote nuove ha Ma sulla macchinina azzurra nessuno mai salire vuol Son sette macchinine di tutti i colori dell'arcobaleno Insieme le vedremo correre veloci, andar di qua e di là La macchinina verde è rotta e non va più Il grande camion blu cammina su e giù La macchinina viola sfreccia avanti al blu Ma sulla macchinina azzurra nessuno mai salire vuol Quattro macchinine colorate Guardate, ecco una macchinina gialla Una E il numero uno Ecco due macchinine che spingono un cubo rosso con il numero due Uno e due Uno e due Ancora più macchinine Spingono un cubo verde con sopra il numero tre Uno Due Tre Wow, quattro macchinine Vedete il cubo blu con il numero sopra quattro? Andiamo macchinine colorate Tutte sui cubi Uno Uno Due Tre E quattro Dover Ciao macchinine colorate Tornate presto Ciao ciao! le quattro macchinine colorate in ordine e con calma viaggiano sulla superstrada ma dove sono dirette? al parco giochi! che cosa c'è che non va a macchinine? le macchinine colorate si stanno esercitando con la pittura dal vero ehi macchinine dipingiamo qualcos'altro? nel parco giochi troveremo sicuramente la giusta ispirazione ci sono dei nuovi giochi non ancora completamente colorati è vero guardate li dipingiamo noi? andiamo guardate quanti bellissimi colori che meraviglia ma i pennelli non ci sono dobbiamo cercarli camion ci fai vedere come si fa? giusto nella vaschetta mettiamo la vernice ci prende con il rullo che facendolo scorrere vernicia in modo uniforme ora potete farlo voi macchinine la macchinina verde dipinge il tetto di azzurro e la macchinina blu dipinge la porta la macchinina gialla preferisce il giallo con il quale dipinge i muri non riesce ad arrivare più in alto anche la macchinina rossa dipinge solo in basso ma insieme fanno un ottimo lavoro bravissime macchinine il garage è tornato nuovo dipingiamo la giostra sta diventando più attraente e l'altaleno più simpatica la base del muro dello scivolo è grigia vediamo come cambia dipingendola oh fantastica questi stencil o matrici disegnano delle forme perfette proviamo cerchi ovunque e di tutti i colori oh come siamo perfetti il parco è ben decorato vi piace macchinine? possiamo farlo ancora alla prossima puntata con i nuovi decori ciao